Alla Medical Spy Image il paziente viene accolto e fatto accomodare in sala d'attesa dove gli vengono offerte le nostre tisane anti-age. Dopodiché viene fatto accomodare in uno studio dove procediamo alla compilazione della cartella clinica. La prima parte della cartella clinica riguarda la scheda anagrafica dove vengono annotati i dati del paziente. Successivamente viene fatto un questionario anamnestico per indagare lo stato di salute del paziente. La seconda parte della cartella clinica viene compilata a cura del medico che farà firmare alla paziente i consensi ai trattamenti. Dopodiché verranno annotati i trattamenti in un'altra scheda dove verranno applicate le etichette dei prodotti utilizzati. Parte integrante della cartella clinica del paziente sono i risultati di un test della pelle tramite le sonde del Dermacheck. Questo software rileva l'idratazione, il sebo, l'elasticità, la melanina, l'eritema della pelle del paziente. La filosofia della Medical Spy Image sotto la direzione del professor Carlo Tremolada prevede che tutti i trattamenti di medicina estetica siano eseguiti per ottenere dei risultati naturali, nel rispetto dell'armonia dei volti.